Allora, dopo questa semifinale che non sappiamo del risultato, una delle due ha vinto, il voto disciplina adesso per il comportamento. Da chi cominciamo? Da chi ti fa? Allora, va bene. Allora, iniziamo da lui. Stiamo comportando bene, è una bella partita, è combattuta. E il voto disciplinare è 8. 8, per cui si sono comportati molto bene. Bene, allora da parte vostra... Bravissimi ragazzi, ci siamo giocati anche altra volta, quindi non c'è da dirci nulla, sono perfetti. Voto 10, tranquillamente. Voto 10, perfetto, bravi ragazzi.